enjoy people benvenuti su logbook e oggi sto facendo questo video appena tornata da scuola proprio sull'argomento back to school si perché tutti si chiedono oh mio dio come mi vesto il primo giorno di scuola oh mio dio cosa porto il primo giorno di scuola come sarà il primo giorno di scuola al liceo e quindi eccomi qui a parlare a vuoto sul mio primo giorno di scuola allora il primo giorno di scuola mi sono venuta a vestire un po più elegante quindi ho messo questa camicetta la giacchettina e un pantalone nero con delle scarpe air force nere classiche e mentre come bijou ho messo allora le solite collane che mi hanno regalato daria e carla cioè questa me l'hanno regalato daria e carla che è un piccolo bud questa che mi ha regalato mio fratello che è mentre ai polsi pandora questo che era di mia nonna un elastico per i capelli che può essere sempre utile a scuola e anche questo che mi ha regalato mio fratello mentre l'anello che ho sempre e avevo anche quello degli erondel ma l'ho dovuto togliere perché mi sudare lì ho fatto anche i capelli lisci questa è la camicetta e comunque sono neri quanto riguarda invece cosa portare il primo giorno di scuola considerando che non si fa mai molto io non ho neanche portato il mio zaino di tutti i giorni ho portato questo zainetto qui pratico comodo io l'adoro al posto che usare la classica borsa io uso lo zainetto gli ho dato pure un nome nome si chiama Kevin allora ho portato un un quaderno questo qui che è carinissimo per questo coso che c'è sopra e non so per cosa lo userò sinceramente ma penso per gli appunti anche perché dentro le righe e l'ho preso all'IKEA mentre il diario della BU giallo che tra l'altro io sono l'unica deficiente il cui diario non ha il nastretto ma penso che sia solo il mio perché la mia amica ce l'ha della stessa marca e ce l'ha e poi l'astuccio che è sempre questo ormai da 4 anni e niente poi vabbè queste sono le cose riguardanti la scuola ma ovviamente ho portato anche il portafoglio per il bar perché ovviamente stamattina ho preso il tallapesca che darà inizio ai tallapesca di tutto l'anno e quindi adoro il tallapesca poi vabbè lo zainetto è pratico comodo quindi per i primi giorni di scuola userò questo e niente fatemi sapere voi quando iniziate la scuola perché io l'ho iniziata oggi e niente fatemi sapere quando iniziate voi la scuola se il video vi è piaciuto se vi è potuto essere utile se avete intenzione di vedere altre cose riguardanti il liceo fatemelo sapere qui sotto e lasciate un like se il video vi è piaciuto e iscrivetevi ecco questo era il make up avevo anche una tinta delle labbra sui toni comunque del pesca aranciato e niente bacio iscrivetevi 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 iscrivetevi